Cosa farò ora che tu vai via? Dimmi cosa farai? Cederò alla pazzia per scordarmi di te, farò il diavolo a tre. Sarò forte domani, vedrai sarò forte. Cosa farai se dormire non puoi? Dimmi cosa dirai alla gente di noi? E' finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi, senza paura. Come una stella brillavi eri mia, correva forte la tua fantasia. Sembrava tutto più bello di un gioco, era l'amore, non era poco. E ci ripenso, giorno e notte ti penso, niente di strano, ti bastava una mano. Ma come un cretino io non me ne accorgevo, tu te ne andavi, io ti perdevo. Ciao! Meraviglioso, eh? Vedi, abbiamo fatto pubblico. Dai, cagli! E come, dove vedi? Hai venuto da di là. Hai sentito la voce? Stiamo facendo un filmato per Tele Durruti, che è una televisione di Fulvio Abate, uno dei più grandi intellettuali italiani che sta riprendendo. Vuoi dire qualcosa? Io ti ringrazio per averti ascoltato dalla Rua. Dalla Rua? Ma da dove vieni? Da Ascoli Piceno. Ah, va bene. E lui è Ascoli Piceno e io sono Ascoli Piceno. Sono stato ad Ascoli Piceno. Però grandissimo. Grande. Ciao, caro. Ciao. Arrivederci. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Vedi, abbiamo fatto pubblico. Sì. Il cappello ce n'ha nessuno, il cappello? Il cappello è qualche euro? Ciao, pupo. Ciao, ragazzi. Ciao, 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 ciao. Pupo, posso chiederti una cortesia? Un amico che si sposa, poi facciamo un video saluto. Un amico che si sposa, come si chiama? Nico. E lei? E lei Federica. Nico e Federica. Nico e Federica. Federica è una bella persona. La gatta. Persona. Vai, dai. Nico e Federica. Un amico che si sposa. Grazie.